Seracusa, la polizia rimiene droga, trentenne evadita e domiciliari e si inventa contro gli agenti arrestati. Prosegue l'attività di contrasto allo spaccio e alla detenzione di sostanze stupefacenti in città a cura degli uffici operativi della questura retusea. Dopo aver esteso i controlli nei quartieri setacciando alcune aree verdi periferiche, l'attenzione è tornata in via Santi Amato, dove nella mattinata di ieri, nell'ambito del pattugliamento nelle cosiddette piazze dello spaccio, agente delle volanti hanno rinvenuto. Nascosta tra le esterpaglie una modica quantità di cocaina. Poco dopo, in un altro passaggio effettuato nella stessa via, agente delle volanti hanno rinvenuto e segrestato altre dose di cocaina e marijuana. Nel corso dei servizi, gli uomini diretti dalla dottoressa Guarino hanno intercettato, nei pressi di Largo Luciano Russo, un noto pregiudicante su Riacusano di 30 anni già agli arresti domiciliarie e lo hanno bloccato per condurlo in questura. L'uomo ha opposto una strenua resistenza agli agenti operanti colpendoli con calci e pugni. Dopo le incombenze di legge, il trentenne è stato arrestato per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e posta ai domicilari in attesa del rito direttissimo. Grazie a tutti.